Il DUP, il documento unico di programmazione, è il documento di pianificazione e di programmazione più importante per un ente, per il Comune di Pesaro. È stata anche un'occasione per rimettere in fila un po' anche quelle che sono le previsioni, le tempistiche e anche dei prossimi documenti importanti. Infatti Pesaro mantiene una virtuosità anche in quelle che sono le scadenze, nel senso che saremo tra i pochissimi comuni che entro dicembre di quest'anno porterà in Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2021. E questo documento è stata anche un'occasione per aprire un dibattito con i consiglieri su quelle che sono le linee guida nella stesura del bilancio futuro. Un bilancio che dovrà tenere conto inevitabilmente di quello che è un contesto socio-economico particolare, molto diverso rispetto a quello degli anni passati e che quindi dovrà avere un'attenzione importante, maggiore rispetto a quella che il Comune di Pesaro ha sempre avuto per le tematiche sociali. Ma anche dovrà essere un bilancio che dovrà riuscire a fare una programmazione e ripensare quella che è la città che verrà fuori nel dopo coronavirus. Ci saranno infatti anche delle risorse per le progettazioni. Metteremo tutti quei requisiti che ci serviranno per cogliere le opportunità che ci saranno sui recovery plan e su tutte le opportunità di investimento che ci saranno nell'immediato futuro. Quindi un bilancio che avrà un assetto importante sugli investimenti, sui lavori pubblici e al tempo stesso una grande attenzione su quella che è la spesa corrente e il contenimento delle spese, considerando però l'importanza del welfare e dei servizi educativi e sociali perché per questa amministrazione sono un fiore all'occhiello.